Salve, oggi andremo a vedere insieme quali sono le possibili cause di entrata di acqua dove ci sono le finestre. Le cause principali potrebbero essere da controllare come prima cosa se il vetro ha una rottura, quindi se è possibile controllare con una scala dall'esterno o anche dall'interno se c'è una crepa nella finestra. La seconda cosa da controllare è se la finestra effettivamente l'abbiamo tenuta chiusa. Qui ci sono degli incastri dove abbiamo l'incastro numero uno e l'incastro numero due. Come potete vedere servono proprio per tenere leggermente aperto questo è l'incastro numero uno e questo è l'incastro numero due. Andiamo a controllare che effettivamente sia incastrato nel secondo perché sennò potrebbe entrare l'acqua. Quali sono le altre cause che possono fare entrare l'acqua senza nessun danno? Quali sono le cause che possono fare entrare l'acqua senza che ci sia veramente una rottura? Le cause possono essere in questo caso due, quindi potrebbe essere la guarnizione secca, una guarnizione deve aderire contro la superficie della finestra. Se questa guarnizione si è seccata perché da molto che è stata chiusa c'è andata un po' di polvere può non avere la sua efficienza normale, cioè quella di evitare che entri dei detriti e acqua. Quindi cosa bisognerebbe fare nel primo caso? Prendere un panno umido e andare a pulire la guarnizione. Dopo averla pulita bisogna utilizzare un spray siliconico per cercare di farla diventare di nuovo più tenera come da originale. Questa è la prima soluzione. Se entra ancora d'acqua i casi sono altri. Vediamo il secondo caso. Come per esempio in questo caso qui che la guarnizione è buona, non è secca, il problema è questo. Come potete vedere questo incastro è posizionato, non è simmetrico, è asimmetrico. C'è una parte che è tangente qui, l'altra parte è più sporgente. Se noi questo qui lo smontiamo e lo giriamo al contrario, questa parte più sporgente finirebbe sotto. Finendo sotto riusciamo a tirare di più la guarnizione. Questo è uno di quei casi in cui in casa madre loro assemblano in questa maniera perché se lo mettono al contrario tirerebbe troppo e rischierebbero di spaccare la finestra perché la guarnizione è molto nuova e molto più dura. Adesso dopo un paio di mesi la guarnizione se è intenerita, se è viziata, di conseguenza se noi andiamo a chiudere, come potete vedere, avanza dello spazio. Quindi non va a tirare la finestra come dovrebbe tirarla. Quindi l'operazione da fare in questo caso qual è? Prendere un cacciavite, girare sotto sopra questo pezzettino di plastica. Andiamo a vedere come. Andiamo a svitare le due viti, giriamo sotto sopra questo pezzettino di plastica. Come potete vedere adesso sporgerà leggermente di più verso il basso. Quindi andiamo a riapplicare le viti mettendolo esattamente nello stesso punto in cui c'erano i fori. Prima di andarlo a fare su tutti quanti andiamo a fare la prima prova sul primo perché se dovesse tirare troppo non è il caso di farlo perché si romperebbe la finestra. Andiamo a provare. Bene, riusciamo a incastrarlo e riusciamo a vedere in questo momento che tira di più e la guarnizione in tutti i punti adesso aderisce non facendo più entrare l'acqua come si vede in questo punto. Infatti c'è la sparata verso l'interno. Qui entrava l'acqua in questa posizione nella parte anteriore dove praticamente non tirando abbastanza da questo manettino rimaneva leggermente aperto qui nella fessura e quindi in caso in cui il camper è in viaggio sotto la pioggia potrebbe entrare l'acqua e trovare dell'acqua all'interno della parte anteriore o addirittura come in questo caso anche da parcheggiato sopra il sedile. Niente, grazie dell'attenzione. Buona giornata. Grazie.